Allora, ciao ragazzi, benvenuti nel primo appuntamento di CiccioGamer89 su Melagodo o almeno speriamo così. Vi dico in un attimo che mi occupo di vari giochi sul mio canale visitatelo e iscrivetevi. Quest'oggi stiamo su Slenderman Hospital, una versione diciamo recente di Slenderman. Sappiate che io questi giochi li odio, li gioco solamente per il mio canale, per i miei utenti e per voi in questo caso perché è la prima volta che gioco ad Office. Quindi spero in un vostro commento, spero in un vostro bel pollicione e venite a iscrivervi. Allora, come posso vedere già il suono di sottofondo è cambiato. è diventato pure molto più scuro, questo purtroppo c'è da dirlo. Vediamo ragazzi, buona fortuna a tutti. Ok. Ok, ci dovrebbero essere 24 biglietti, non ne trovo mezzo. Ottimo, davvero ottimo. Qui vediamo che mettono anche dei youtuber. Buono a tutti, buon cago. Ok. Incominciamo. l'atmosfera è sempre quella ragazzi, non cambia mai, cioè non cambia mai. Figlio di puttana, penso che si possa dire su un mellacordo. Perché qui ragazzi, vi dico, come è stato per Hospice, no è questo Hospice, perdonatemi, sul sanitorium, hanno cambiato l'intelligenza artificiale dello Slender. Quindi è più cattivo che mai. ok. Ragazzi io non trovo i biglietti su questo gioco. Trovi un pippo. Mi trovo e mi Ma Non li trovo Ah io odio quegli angoli così stretti ragazzi Mi state prendendo un giro? Ragazzi non trovo un biglietto? E bagna Ah eccolo L'abbiamo trovato un altro ragazzi Ok Comunque si da due pagine a due pagine Lo slender do un po' che non si vede Slender ti cacca Mamma mia ragazzi Qui già ci siamo passati Perché adesso con la barra spaziatrice Possiamo lasciare Dei Questi praticamente Adesso non mi vengono in mente scusatemi Che ci dicono che ci siamo già stati Perché effettivamente È diventato molto più Molto più grande Comunque lo sta facendo apposta a non farsi vedere Per me ora ce lo troviamo in fascia Ragazzi Non lo so Ma poi credo che sto girando intorno Ma poi credo che sto girando Oddio ragazzi Che ansia Che ansia Ho il terrore di quando mi devo girare Che ansia 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 Ecco un altro biglietto ragazzi Appunto Bastardo Vai via Vai via Vai via 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 Bastardo Bastardo Ragazzi Slender Bastardo Lì ci sono andato Mannaccia Cazzo Non credo che ci rimanga molto tempo ragazzi Un altro foglio ragazzi E cambia la musica del cavolo Un altro ragazzi Un figlio di puttana No ragazzi Cosa che ci ha preso Non lo so Non lo so ragazzi Il ragazzo sta diventando insistente Dove? Dove? Non lo vedo 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 Dov'era? Ragazzi abbiamo un altro foglio Ragazzi l'ultimo foglio ci manca Ragazzi l'ultimo foglio ci manca Nooo Perché? Ma perché? Ma la lampo aperta Ma che cos'ha? Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Ci riproveremo Ci riproveremo Vi invito a iscrivervi al mio canale Di lasciare un bel commento E un bel pollicione in su qui Ringrazio Mela Codo Per questa opportunità Spero che sia stata colta Ragazzi Buon proseguimento Ciao ciao